Storia utile all'anima, giunta dalle più remote plaghe della terra degli Etiopi, detta anche degli indiani. Così in gran parte della tradizione manoscritta bizantina viene intitolata quella che noi conosciamo come la storia di Barlaam e Yoasaf, uno dei più formidabili testi di tutta quanta la tradizione geografica cristiana, ma in realtà non soltanto cristiana. La titolazione, storia utile all'anima, giunta, eccetera, contiene elementi che sono al contempo formidabilmente legati alla tradizione bizantina, ma al tempo stesso in qualche modo estranei, all'otri, direbbe qualcuno. Storia utile all'anima. Questo è il punto numero uno, il punto che la tradizione bizantina vuole soprattutto sottolineare. La storia edifica, la storia non è solo piacevole, la storia giova in prospettiva spirituale. E questo è tipicamente bizantino. Ma per converso, questa storia così edificante, così utile all'anima, è anche una storia giunta da lontano. È una storia giunta dalla terra degli Etiopi, detta anche degli indiani. L'identificazione tra Etiopi e indiani aveva una lunga storia nella tradizione antica, di cui Bizanzio è da tanti punti di vista l'erede. Ma quello che soprattutto conta e che colpisce lo studioso è che questo è uno dei rari casi nei quali la tradizione bizantina si dimostra ricettiva nei confronti di elementi che provengono da fuori e in modo particolare che provengono da Oriente. Il nostro Giacomo Leopardi, in pagine memorabili del suo Zibaldone, aveva sottolineato questa caratteristica, questa specificità della cultura bizantina nel lungo periodo che va dai padri della Chiesa, del IV secolo d.C., fino ai grandi ispiratori dell'umanesimo e del Rinascimento occidentale, come per esempio Giorgio Gemisto Pletone, cui Leopardi stesso dedicò pagine importanti. Che cosa sottolinea Leopardi? Leopardi sottolinea come la formidabile continuità di questa tradizione culturale è una continuità radiante. L'eredità greca, fusa con la tradizione statuale imperiale romana e innervate della tradizione religiosa cristiana, producono una sorta di unicum che è in qualche misura refrattario a ricevere influssi da fuori e che invece, come una sorta di magnete, attira continuamente verso il suo cuore gli elementi fondanti della sua identità e li restituisce copiosamente all'esterno. La cultura occidentale, la cultura anche araba da tanti punti di vista, ricevono dalla cultura bizantina molto più di quanto non diano. È solo negli ultimi secoli che Bisanzio importa da fuori, traduce da fuori. Il suo compito culturale, nei lunghi secoli del Medioevo, è quello di dare, è quello di irradiare. Quando Bisanzio riceve, e accade di rado, è nel segno dell'eccellenza. Accade nel caso della leggenda di Sinbad, che Bisanzio diventa la storia di Sintipa. Accade soprattutto nel caso della leggenda del Buddha, che a Bisanzio non giunge direttamente, che chi ne dica il titolo, dalla terra degli Etiopi detta anche degli indiani, non giunge direttamente dall'India, ma giunge attraverso dei filtri, delle mediazioni culturali. Prima fra tutte quella araba, di fine ottavo secolo, e in seguito fondamentale quella georgiana, da datarsi tra il nono e il decimo secolo, nella quale per la prima volta la storia del Buddha, la storia del principe eletto, che è un padre premuroso, sicura di proteggere da tutti i mali, da tutte le malattie, da tutte le insidie del mondo, diventa una fiaba iniziatica cristiana. Accanto al protagonista, Bodhisattva, Buddhasaf, Yoasaf, poi nella tradizione bizantina, già la versione araba, non cristiana, aveva inserito una figura di mediazione, una figura di trasformazione, una figura di edificazione, che nella versione bizantina è il coprotagonista insieme a Yoasaf, ed è il monaco Barlaam, o Varlaam, che dir si voglia, con la fonetica che usavano i bizantini e che ritroviamo ancora nel mondo slavo. L'adattazione dell'opera è stata a lungo oggetto di controversia tra gli studiosi, ma le più recenti e autorevoli ricerche ci dimostrano, inoppugnabilmente aggiungerei, che questa versione, che questa non solo cristianizzazione, perché già i georgiani avevano provveduto alla cristianizzazione, ma questa bizantinizzazione della leggenda del Buddha, che è poi la versione irradiante per tutti i successivi sviluppi, non solo nel mondo slavo, ma anche e soprattutto nell'Occidente, con una formidabile tradizione sia letteraria, sia teatrale, sia artistica, questa bizantinizzazione, dicevo, accadde nell'ultima metà del X secolo, diciamo largamente intesa nella seconda metà del X secolo, e accadde in una fondazione monastica, allora relativamente recente, che era la famosa fondazione del Monte Athos. furono in modo particolare dei monaci di tradizione, di cultura georgiana, tradizione che ancora sopravvive nel famoso monastero Iviron del Monte Athos, Iviron altro non vuol dire che degli iberi, e gli iberi sono i georgiani, dicevo, questa comunità monastica espresse figure di grande rilievo, tra i quali il monaco Eutimio, che fu una formidabile figura di, diremmo oggi, mediatore culturale, il termine non mi piace, ma lo accettiamo lo stesso, Eutimio, formato nelle migliori scuole di Costantinopoli, elemento di spicco dell'élite culturale georgiana, che cosa fece? In omaggio alla caratteristica donante della cultura bizantina, tradusse in georgiano numerosissimi trattati teologici bizantini, e tradusse in greco bizantino solo due opere, provenienti invece dalla sua tradizione culturale georgiana, una di queste è per l'appunto la base del suo bizantinissimo Barlaam e Ioasaf. Quella di Eutimio, come ho accennato, non è una mera traduzione, tutt'altro. Per due ragioni. La prima è legata specificatamente al testo. Il Barlaam e Ioasaf bizantino è tanto per cominciare assai più lungo della versione georgiana che già era cristiana. Da che cosa dipende questa maggiore lunghezza, questo maggiore sviluppo? Dipende dal fatto che Eutimio, per rendere la storia non solo attraente, ma anche bizantinamente edificante, inserisce nella trama narrativa una ampia dimostrazione di capacità teologica e dogmatica bizantina che viene affidata soprattutto a una sorta di inesauribile eloquenza dogmatica che è posta tutta sulle labbra del monaco Barlaam, colui che converte il giovane principe alla fede cristiana. Così, questa poderosa iniezione teologica contribuisce alla dimensione non solo spirituale, ma più specificatamente edificante in senso cristiano. Ma questo non basta. Fedeli in qualche modo a quella attenzione per l'antico che caratterizza tutta la cultura bizantine, Eutimio inserisce nella trama dell'opera anche degli elementi che potrebbero essere definiti quasi degli spolia provenienti dalla tradizione più antica rispetto a lui. Uno di questi, spolia, è una singolare trattazione relativa all'eccellenza della religione cristiana che noi conosciamo in lingua greca solo attraverso il Barlaame Iosaf, che quindi oltre a essere, come dire, il veicolo che porta la leggenda del Buddha in occidente, diventa anche uno strumento, un canale di trasmissione di un'opera che altrimenti sarebbe perduta e che è la Apologia di Aristide, un'opera del secondo secolo dopo Cristo, che altrimenti non conosceremo in lingua greca, anche se in lingua greca essa venne effettivamente composta. Numerose sono inoltre le citazioni di autori precedenti, di padri della Chiesa e non solo di padri nella Chiesa, con i quali brani Eutimio trama in qualche modo, in tarsia direi meglio, lo svolgimento del testo, che assume così una formidabile ricchezza di Valenze. È una storia edificante, è la storia edificante in senso cristiano della trasformazione del principe separato dai mali del mondo in una sceta ed eremita cristiano e anche la testimonianza di tutta una serie di apologhi provenienti dalla tradizione orientale che Eutimio in parte rimodella, in parte altera, in parte sopprime. Tra gli apologhi che sono giunti dalla tradizione orientale e che il Barlaime e Iosaf rielabora, è particolarmente significativo quello relativo alla storia famosa del viandante inseguito da una bestia feroce che lo fa precipitare in un abisso, ma lui riesce in qualche modo a restare aggrappato, ma mentre resta aggrappato e mentre vede che c'è un'altra belva che lo attende in fondo per sbranarlo, vede anche che quel minuscolo filo al quale è aggrappato viene nel contempo da dei topi. E' singolare il fatto che mentre nelle versioni antiche indiane orientate abbiamo un elefante che insegue il viandante, nella versione bizantina data la, diciamo pure, la empatia, ecco che la tradizione prima classica e poi bizantina hanno i confronti dell'elefante, giudicato in genere animale compassionevole, animale pietoso, animale in qualche modo casto, viene trasformato questo elefante in un altro, in un altro animale che insegue, che insegue il viandante. Ovviamente la fiaba, scusate, l'apologo del viandante è inseguito mentre nelle versioni orientali, asiatiche, ha una formidabile, quasi sorridente ambiguità, tanto che una versione zen ci esorta a considerare la saggezza del viandante che mentre si trova appeso a quel filo gode di due bacche che gli appaiono dinanzi, assolutamente incurante del fatto che forse un istante dopo dovrà precipitare, invece nella edificante didascalica versione bizantina troviamo immediatamente dopo la narrazione dell'apologo la spiegazione di come interpretarne in chiave ovviamente cristiana i singoli elementi. ma non si pensi non si pensi che quest'opera debba essere come dire limitata a una dimensione didascalica tutt'altro è anche un formidabile testo di metamorfosi di metamorfosi spirituale non solo per quanto riguarda la trasformazione del protagonista Yoasaf da principe separato dal mondo in asceta che rinuncia a tutto questo asceta diventa anche in qualche modo il padre di suo padre e questo è uno dei punti fortissimi della versione bizantina del testo in che modo Yoasaf diventa il padre del padre il padre che lo voleva tenere lontano dai mali del mondo e che poi nella versione bizantina lo vuole ovviamente tenere lontano dal cristianesimo diventa il padre del padre perché Abner il padre di Yoasaf nella versione bizantina finirà per convertirsi al cristianesimo e quindi il figlio spirituale scusatemi il figlio fisico diviene il padre spirituale del padre fisico questo rapporto padre figlio è certamente uno dei temi che sono trattati con maggiore sapienza narrativa oserei dire anche in qualche modo psicologica nel testo ed è suggestivo scorgere magari in questa interpretazione una traccia in qualche modo un calco del rapporto di Eutimio con suo padre il georgiano che fu il responsabile la guida spirituale legumeno del monastero Iviron nel grande complesso della montagna sacra dell'Athos Eutimio figlio di un padre che fu per un lungo tempo il suo come dire il suo responsabile il suo egumeno spirituale nella lunga tradizione di studi di letture di commenti relativi alla storia di Barla Meio Asaf che ha riguardato non solo studiosi della letteratura bizantina ma ha riguardato anche grandi personaggi della storia della letteratura della cultura per esempio Tolstoi ma non è stato il solo in questa lunga storia vi è stato chi ha voluto leggere la vicenda di Barla Meio Asaf anche come un romanzo ora un romanzo per essere tale ha certamente bisogno di personaggi ed è a mio avviso degno di nota il fatto che intorno alla vicenda di trasformazione di conversione nel cristianesimo di Oasaf al suo successo nei confronti del padre al suo incontro col monaco Barla intorno a tutti questi personaggi che sono i personaggi principali troviamo anche una serie di personaggi minori che però sono utili ai fini della narrazione e che per il lettore accorto capace diciamo così di cogliere anche alcune alcuni tranelli alcune trappole che spesso sono disseminate nei testi bizantini possono riservare delle interessanti sorprese vi è per esempio una sorta di stregone il quale poi viene a essere paradossalmente in modo del tutto inaspettato funzionale al successo del cristianesimo impersonato da Barla Ioasaf e questo stragone si chiama Nahor e in questo Nahor possiamo trovare in qualche modo un'allusione al termine greco Anachoritis che vuol dire Anachoreta e in effetti poi diventerà anche egli funzionale al successo del cristianesimo quando il re Abner vuole impedire a Ioasaf o vuole ostacolare il suo progetto di trasformazione spirituale elabora delle trame tesse delle trame con un suo consigliere eccolo in questa miniatura del quattordicesimo secolo lo vediamo abbigliato con un con un turbante no? tipicamente esotico questo consigliere si chiama Arahess e una delle sue principali occupazioni è quella di complottare di tessere delle trame di inganni beh Arahess è vicinissimo al termine greco Arachne che vuol dire ragno per cui il lettore può anche trovare come dire in questi nomi quasi una allusione rispetto alla loro funzione nella storia ma tra tutti questi personaggi forse il più memorabile è un personaggio che resta anonimo e che è definito nel testo come il guaritore dei discorsi il guaritore dei discorsi che ha una importante funzione nel testo e come si presenta il guaritore dei discorsi dice che se per caso avviene che venga riscontrata ferita o infermità in parole o conversazioni con appropriati farmaci io saprò guarirla sì che il male non abbia a diffondersi ulteriormente non è un guaritore della psiche è un guaritore delle parole è un guaritore dei discorsi forse nella nostra epoca nella quale tante parole sono usate spesso in modo improprio questa presenza che attraverso il filtro della elaborazione culturale bizantina ci arriva da così lontano nel tempo e nello spazio forse questa figura ha qualcosa da dirci anche oggi di la 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 lontano